Sono molto contento dell'occasione che dà Art City di portare il teatro, le letture anche in posti diciamo non convenzionali, non canonici. In luoghi particolari come questo qua siamo alla fortezza Sangallo a Civita Castellana. È molto suggestivo già entrare qui dentro sia come una sorta di ispirazione, di stare dentro cose belle. Solo chi nasce fossile non muore. Il mio libro che appunto si chiama Ogni ricordo un fiore è un romanzo che si presta secondo me a una lettura pubblica perché fatto di incipit. Ci sono 230 inizi di racconto. Mi basta che tu stringa molto a lungo questi fogli che ti ho scritto fra le mani. Grazie. Grazie.